Ben trovate su bioblu.com e oggi ci è venuto a trovare Franco Fracassi, scrittore, saggista, documentarista, giornalista. Si è occupato recentemente del Monte dei Paschi di Siena scrivendo un libro che si chiama Morte dei Paschi di Siena. David Rossi aveva oltre a essere ufficialmente il responsabile dell'ufficio comunicazione del Monte dei Paschi, cioè pubblicità e rapporti con i giornalisti. In realtà faceva molto altro e aveva un rapporto molto stretto con il presidente del Monte dei Paschi, Mussari, che è colui che ha buttato, gettato nel disastro, che ha fatto implodere la banca. Allora, Rossi è morto, è morto perché è volato da un palazzo. La magistratura sostiene che lui si sia suicidato per ben due volte archiviato il caso. Appare evidente a tutti, perché ci sono prove indiziarie, prove reali e così via, che Rossi non si sia suicidato. Non ci crede nessuno che Rossi si sia suicidato. Il problema è che è morto. Molte le evoluzioni ultimamente su questo caso, in particolare all'opinione pubblica, è noto il servizio delle Iene che riguarda questo traffico di escort con serate particolari a cui partecipavano altri dirigenti senesi e della banca in questione. Però non c'è realmente un collegamento con quello che è il caso Rossi. Ci vuoi spiegare meglio di cosa sta succedendo? Ultimamente stanno uscendo fuori molti servizi che collegano la morte di Davide Rossi, almeno nell'incipit del servizio. C'è un collegamento della morte di Davide Rossi e dei, una sorta di festini, insomma, un giro di escort maschili che venivano frequentati da alti dirigenti al Monte dei Paschi in generale dal mondo benestante di Siena, politici anche non senesi, e a quanto pare anche Mussari e Rossi. A quanto pare, perché nessuno l'ha mai detto direttamente, si dice, si sospetta che. Il problema è che questi servizi hanno fatto una luce su qualcosa di scabroso, sicuramente qualcosa che tira molto dal punto di vista televisivo, però non è un reato, è brutto finire sul giornale e in televisione per una cosa del genere, insomma, che nessuno ci voglia finire. Però è un po' complicato uccidere una persona così in vista, nella maniera in cui è avvenuta, cioè addirittura facendo sparire tutti i filmati dai computer della banca, coinvolgendo magistrati e così via, c'è un meccanismo che si è messo in moto enorme per una cosa così. Quando al tempo stesso, e lì invece esistono dei collegamenti, perché Rossi, mentre lì si sospetta che, invece Rossi delle cose le faceva, oltre a essere, diciamo, oltre a occuparsi di giornalisti e di pubblicità. Rossi era la persona che aveva, diciamo, che procurava i contratti tra i vari soggetti in giro per il mondo, che devono commerciare, devono fare grandi commerci tra di loro, non lo so, acquisto di grandi partite di merci di enorme valore, che posso dire, cose del genere avvengono quando il Milano è stato acquistato dai cinesi, no? 750 milioni di euro. Per una cosa del genere c'è bisogno di una banca che garantisca questa transazione. Rossi faceva anche questo. E il problema è che il Monte dei Paschi, oltre a fare queste, diciamo, transazioni normali in giro per il mondo, è una delle banche che si occupa delle transazioni di armi, dell'acquisto e della vendita di armi. Si chiamano banche armate, non è l'unica il Monte dei Paschi, ci sono anche altre. Allora, vendere e acquistare armi è lecito. L'Italia è uno dei maggiori produttori di armi, è uno dei maggiori esportatori di armi. E non è per nulla lecito farlo quando tu vendi armi a paesi che sono in guerra. O destabilizzati, comunque. Sì, perché è vietato. È vietato vendere armi a paesi in guerra. Il problema è che è lì che si fanno i soldi veri. E il Monte dei Paschi è una delle banche che in questi ultimi sette anni ha garantito l'acquisto e la vendita di armi a tutte le parti in conflitto in Siria. Cioè la guerra civile siriana, senza la presenza del Monte dei Paschi, sarebbe diversa. Forse se decidessero tra una settimana di smettere di erogare, di garantire, magari tra un mese dovrebbero prendersi a clavate per combattersi, perché non avrebbero più i soldi per acquistare le pallottole, le munizioni per spararsi. E' fondamentale questo continuo rifornimento di denaro e quindi di munizioni per poter combattere le armi. Se compro una volta le munizioni devi comprare in continuazione, una volta che sono finite non puoi più sparare. Allora Rossi faceva questo, cioè Rossi era in mezzo a questo, era quello che ha procacciato questo affare. Rossi era un uomo che ogni settimana riceveva una valigetta da una persona, e gliela portava nel suo ufficio, prendeva questa valigetta, affittava una macchina sotto falso nome, percorreva centinaia di chilometri verso nord, passava il confine svizzero, andava a Lugano e depositava il continuo della valigetta, soldi, in una banca di Lugano. Si chiamava riciclaggio questa cosa. Perché riciclava i soldi? Scusa, tu come le sai queste cose? Perché è il mio mestiere, faccio il giornalista d'inchiesta, quindi queste cose qui le ho scoperte. Insomma, ci sono le prove, ci sono i testimoni. E sono cose che i magistrati stanno prendendo in considerazione? Come mai? È proprio lì il problema. Allora, per chi riciclava questi soldi? Secondo gli inquirenti, però non c'è nessuna comunicazione ufficiale, però insomma, quasi certamente si tratta di personaggi dell'andrangheta. Allora, riciclava i soldi dell'andrangheta. Il più grande trafficante di droga al mondo, che ha il monopolio assoluto di tutta la droga, di tutti i traffici di droga in Europa. Rossi aveva un ufficio al Ministero dell'Interno. Allora, un banchiere. Non ha senso una cosa del genere. Allora, l'Ufficio dell'Interno hanno uffici. I dirigenti del Ministero dell'Interno, i prefetti e i servizi decreti. Allora, lascio voi pensare a quale delle tre categorie volesse appartenere Davide Rossi. Allora, un personaggio del genere che ha a che fare con, appunto, con trafficanti di droga, di armi, ricicla denaro, forse è un agente dei servizi, di quali servizi, per chi lavora esattamente, tralasciando altre cose in cui stava in mezzo lui. Un bel giorno scrive un'email al suo capo. In questi email c'è scritto Non ce la faccio più. Adesso vado dai magistrati e gli racconto tutto. Due giorni dopo muore. Allora, dov'è che bisogna andare a cercare? Tra gli escort? O, cioè, chi è che può aver ucciso Rossi? Qualcuno che aveva paura di essere scoperto, di essere andato con qualche ragazzetto? Oppure l'andrangheta, la CIA, l'ISIS, non lo so, ci mettiamo in mezzo di tutto. Allora, i filmati che erano spariti, cioè, quando i magistrati sono venuti lì, non hanno trovato nessun filmato, perché gli è stato detto blackout e non ci sono filmati. Come non ci sono filmati? Eh, succede, blackout, l'intero sistema, i filmati delle telecamere che filmavano, chi entrava e usciva dalla banca, chi si spostava di piano, chi si spostava all'interno dei corridoi, chi è entrato e uscito dalla camera di Rossi, che cosa è successo all'esterno? Spariti tutti. Eppure io credo che molti, molti degli italiani abbiano visto un filmato in cui si vede Rossi, peraltro l'hanno mostrato le Iene, in cui si vede Rossi cadere e si vede gli ultimi decine di minuti di agonia di Rossi. Il problema è, ma se c'è stato un blackout, come fa a esistere quel filmato? E soprattutto, dove è uscito fuori? Visto che Rossi è morto nel 2013, questo filmato è uscito due anni dopo. Chi l'ha tirato fuori quel filmato? Allora, quel filmato è stato pubblicato, per la prima volta, da un sito internet del giornale New York Post, non il Corriere di Siena, la Nazione, il New York Post. Allora, che gliene frega a quelli di New York, di un tizio che si butta da Siena? Ah, non ha nessun interesse per i lettori di quel giornale, un filmato del genere, a meno che non sia importante la provenienza di quel filmato. Allora, al New York Post quel filmato gliel'ha dato la CIA. Ufficialmente l'hanno detto loro? Sì, sì, gliel'ha dato la CIA. Allora, la CIA tira fuori un filmato della morte di Davide Rossi. Vuol dire che la CIA ha degli interessi su quella morte di Davide Rossi. In una vicenda in cui ci sono dei soggetti internazionali di altissimo livello, in cui la maggior parte di questi soggetti sono anche massoni. In una città massone succede una cosa così strana, io penso che le pressioni messe sulla magistratura senese per non indagare, perché poi c'è la magistratura di Genova che sta indagando sulla magistratura senese e li sta mettendo sotto accusa. L'accusa formale è di aver depistato le indagini, di aver fatto sparire delle prove. Hai citato la Siria. Il fatto che probabilmente se oggi in Siria c'è ancora un conflitto è anche grazie all'Occidente. Poi possiamo dire Banca di Siena, possiamo dire aziende produttrici di armi italiane o europee, ma comunque è roba nostra quella. Che cosa ne pensi tu di quello che sta succedendo lì? Io penso che in questo momento Trump abbia bisogno di quei bombardamenti. Che in questo momento Macron abbia bisogno di quei bombardamenti, in questo momento la May abbia bisogno di quei bombardamenti. Trump è in enorme difficoltà in patria, da quando è stato eletto gli stanno facendo la guerra tutti, a torto ragione insomma, però gli stanno facendo la guerra tutti sostanzialmente, contro l'FBI, contro la CIA, contro gran parte del congresso della politica americana, contro i media, contro il procuratore speciale che ha messo lui stesso, però insomma è un personaggio legato, Miller era il capo dell'FBI l'11 settembre, è l'uomo legato alla famiglia Bush, è l'uomo legato a quel potere lì, che non è il potere di Trump, è un altro, è il potere della Clinton, il potere che lui ha scalzato, e Miller sta cercando di far pagare, insomma, sta facendo una caccia durissima contro lui, e ogni mese che passa un ipotetico impeachment si avvicina, allora lui ha bisogno di smarcarsi, di affrancarsi alla Russia in qualche modo, cioè far vedere, guardate che io non c'entro niente con Putin, non c'entro niente con la Russia, secondo, ha bisogno che si parli d'altro, perché sennò diventa una sorta di ossessione di un paese contro di lui, la Francia, cioè Macron, anzi non la Francia, la Macron ha dei seri problemi in casa, dopo essere stato eletto con più che percentuali bulgari, perché lui al primo turno ha più del 23-24%, però grazie al meccanismo del secondo turno ha messo in Parlamento oltre il 70% dei deputati, quindi sostanzialmente potrebbe cambiare la Costituzione, potrebbe fare qualsiasi cosa, quindi ha un potere illimitato, nonostante questo è passato un anno credo, più o meno, ha perso una buona parte del consenso che aveva l'anno scorso, è un mese che la Francia è paralizzata da scioperimi, tipo, gli stanno rivoltando contro tutti, perché alla fine Macron si è rivelato quello che era, cioè Macron è il nostro Monti, né più né meno, ha la stessa formazione politica, la stessa formazione ideologica, culturale, economica e così via, e l'uomo che aveva introdotto perché era ministro del precedente governo ed era l'uomo che aveva promosso e introdotto il Jobs Act francese, quindi è proprio quel mondo lì, e si pensava evidentemente i francesi si erano dimenticati quello che era Macron, ma era quello, e quindi gli si sta rivoltando contro un paese, diciamo che spostare anche lì, trovare un nemico in questi casi è sempre molto utile e spostare l'intenzione altrove, poi c'è la May che è in estrema difficoltà, perché la Brexit non sta andando come pensava andasse, perché il partito laborista gli sta facendo una seria opposizione dentro casa, perché all'interno del suo stesso partito ha dei personaggi che gli stanno facendo la guerra, che sono molto più estremisti di lei e che vorrebbero scalzarla in qualche modo. Allora, questa vicenda cosa che ci porta a capire è che un personaggio al di là di quello che noi pensiamo di Assad, che in quel momento, quindi prima diciamo dell'ultimo episodio, dell'ultimo evento, sta riconquistando i favori di parte dell'opinione pubblica, perché è l'uomo argine all'ISIS in qualche modo. Ovviamente l'Occidente continua a parlare male di lui, ma in fin dei conti si rende conto che forse può essere un interlocutore. Sta riconquistando militarmente una parte del paese si sta in qualche modo ristabilizzando per quanto si possa ristabilizzare un paese devastato come la Siria, questa persona improvvisamente dovrebbe senza avere nessun vantaggio strategico, militare, di nessun tipo sterminare parte della sua popolazione. Sterminare parte della sua popolazione non si sa perché. Quando poteva tranquillamente non tirargli armi chimiche, se proprio doveva fare qualcosa gli mandava un po' dei carmati che sta nella diciamo nella logica delle cose che non c'erano gli avrebbe detto avrebbero protestato dicendo Assad usa i carmati ma la cosa sarebbe finita lì. Dall'altra parte c'è un'opposizione siriana che è in grossa difficoltà. Trump ha detto Trump ha detto che se ne vuole andare dalla Siria quindi non ha più l'appoggio principale ovvero gli Stati Uniti i russi li stanno bombardando pesantemente e non ha più l'appoggio dell'Isis perché l'Isis era parte di quella coalizione l'Isis è stato in qualche modo fatto fuori i kurdi stanno prevalendo su quella perfino su di loro e tutti i vari paesi che li appoggiano anzi più che paesi anche direi gruppi di potere che appoggiano l'opposizione siriana che ricordo parte essenziale di quell'opposizione siriana è Al-Qaeda quella che dovrebbe essere il male assoluto Osama Bin Laden non so se avete capito di cosa sto parlando ecco il male assoluto è parte dei buoni adesso allora tutti questi soggetti che sono invece in enorme difficoltà avrebbero uso il condizionale perché non è che li sto accusando direttamente avrebbero invece tutto da guadagnare che si rimeschino le carte che Assad non sia di nuovo il cattivone di turno che si bombardino delle posizioni militari di Assad indebolendolo così si ritarda l'avanzata che si che si cerchi di estromettere in qualche modo o diminuire l'influenza russa nell'area eccetera 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 allora questo al di là dei caschi bianchi delle armi chimiche allora noi ci siamo già passati una volta con questa storia delle armi di istruzione di massa ed è stata la barzelletta del secolo in Iraq peraltro sono gli stessi soggetti che ci stavano propinando esattamente la stessa cosa Stati Uniti e Regno Unito se vi ricordate prima era Bush e Blair adesso sono Trump e la May ma sempre quei due paesi ci sono abbiamo almeno questo ci avevano detto gli ispettori che a SAD le armi non c'erano più quelle armi le armi chimiche gli erano state tolte tutte quante peraltro le armi chimiche io non sono un esperto di armi chimiche però insomma mi documento e gli esperti sostengono che la traccia di un'arma chimica rimane anche se è stoccata rimane nell'area si può identificare facilmente anche a distanza di tempo anche a distanza di tempo quindi è facilissimo individuare se a SAD ce l'abbia oppure no queste armi di sicuro ce le potrebbero a SAD quasi certamente non ce l'ha più non si sa quindi potrebbe essere sì o no che ce l'abbiano i ribelli perché nessuno è andato mai a controllare da loro peraltro i ribelli hanno contatto sono finanziati armati e così via da paesi che ce l'hanno quelle armi e nessuno ne ha mai verificato allora la prima volta c'è stato questo attacco di armi chimiche Obama stava per fare la guerra Kerry che era un ministro agli esteri diciamo pacifista se si può definire in questa maniera l'ha bloccato e quindi non se ne è fatto nulla ci sono state le ispezioni c'è stato un rapporto il rapporto diceva che quell'attacco chimico era stato fatto dall'opposizione era stato accusato a SAD per una cosa che era stata fatta dall'opposizione quindi l'opposizione queste armi ce l'aveva non so se ce l'ha ma ce l'aveva sicuramente e non ha avuto problemi ad usarle facendo passare a SAD per il cattivo di turno poi c'è stato un secondo diciamo attacco di armi chimiche in questo secondo caso nessuno ha mai verificato nulla non si sa se sia mai stato fatto questo attacco ci sono girano dei filmati ma come sappiamo nel 2018 i filmati li posso fare anche io nella mia cameretta e creare un olocausto atomico nella mia cameretta non sto dicendo che deve essere per forza così ma c'è questa possibilità quindi nel 2018 i controlli devono essere rigorosi perché la scienza ci permette di fare cose che anche solo vent'anni fa erano impensabili di mistificare la realtà in maniera assurda in maniera impensabile anche quella volta c'erano i caschi bianchi peraltro sui caschi bianchi c'è molto a raccontare perché insomma i caschi bianchi è emerso tantissime volte che erano diciamo la macchina di propaganda principale dell'opposizione siriana ci sono addirittura immagini dove si vedono un casco bianco anzi un ragazzo che viene portato via tutto squarciato così poi lo stesso ragazzo tre minuti dopo invece ha il caschetto e porta via a sua volta delle altre persone non so come dire chi ha frequentato determinati ambienti conosce anche molto bene le esercitazioni vengono fatte in questa maniera io ad esempio faccio parte di una squadra mi metto per terra faccio il malato la volta dopo io faccio il soccorritore tu fai il malato poi qualcuno riprende poi quel video chissà che fine fa esattamente esattamente i caschi bianchi sono questo i caschi bianchi sono una macchina propaganda perché se è vero che noi viviamo nel mondo del consenso dove la diciamo l'informazione è l'arma più potente che ci sia se è vero che le guerre sono il luogo della propaganda dove si esprime al meglio la propaganda è a maggior ragione vero che la guerra in Siria è uno dei principali laboratori della propaganda del presente e del futuro cioè di quella vera cioè quella che non sembra propaganda allora noi stiamo avete presente il cartone animato Vilcoyote Bip Bip allora secondo me noi ci troviamo in quel cartone animato e in quel cartone animato che succede? succede che Vilcoyote cerca di fare di tutto per catturare Bip Bip e ogni volta ogni volta usa strategie differenti missili terra aria trappoloni si mette i razzi nel sedere fa di tutto però finisce sempre con Vilcoyote che cade nel burrone ogni santa volta allora noi stiamo viviamo in un sistema e stiamo cercando di uscire da una crisi profondissima una crisi economica politica anche internazionale geopolitica una crisi profondissima e ognuno propone ricette differenti e le tenta ma sempre all'interno dello stesso cartone quindi una volta usiamo i razzi sotto i piedi un'altra volta il trappolone un'altra volta un masso che dobbiamo lanciare su Vilcoyote eccetera eccetera e ogni volta finiamo sempre nel burrone allora io credo che sia ora di uscire dal cartone animato di uscire di uscire di uscire